Il centrodestra si è compattato ieri in Consiglio regionale sull'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2024-2026 grazie al serrato i ranghi ordinato dal presidente della regione Marco Marsilio nel vertice di maggioranza del giorno precedente. Provedimento passato dunque con le norme volute dall'assessore al bilancio Mario Quaglieri che avevano creato non pochi mal di pancia tra i partiti della maggioranza. Plateale il dissenso espresso dall'opposizione che ha abbandonato l'aula al momento del voto dopo aver presentato più di 900 emendamenti e questa mattina ha motivato la decisione in una conferenza stampa all'Aquila. Il leader del patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico e gli altri consiglieri regionali di centro-sinistra hanno parlato di emergenza democratica e di una questione morale che non può più essere ignorata. Denunciamo che il centrodestra senza fornire nessuna spiegazione insista nell'approvare per legge dei provvedimenti di finanziamento episodici del tutto scollegati da una qualsiasi politica economica, una politica di rivisitazione del sistema sanitario, una politica sul sociale che si cambi metodo e cioè che si smetta di approvare per legge dei provvedimenti di gestione, dei provvedimenti con cui si finanziano singole iniziative, peraltro tutti di comuni che sono stati molto generosi elettoralmente nei confronti del centrodestra. Bisogna fare bandi pubblici, garantire trasparenza, garantire a tutti i comuni, a tutte le associazioni sportive, a tutte le associazioni del sociale la possibilità di partecipare e attraverso i bandi riuscire a realizzare un'allocazione ottimale delle risorse degli abruzzesi.